Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di PringiLuca, mi vedete davanti a me con un sacco di roba Un sacco di roba veramente molto interessante perché oggi andremo a fare lo zaino per il mio viaggio a New York Bene ragazzi, eccoci qui, allora vi mostro subito lo zaino che ho deciso di portare con me Questo è uno zaino che già vi ho unboxato qui nel mio canale, vi lascio il video qui in alto nelle schede anche se è un video veramente molto molto vecchio E vi sconsiglio anche di guardare perché è molto brutto, ma in ogni caso è uno zaino molto interessante per chi ne fosse interessato Vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione e il video per andare a visualizzare tutti quelli che sono i dettagli In ogni caso le feature più interessanti di questo zaino è che è totalmente impermeabile con catarifrangenti e soprattutto antifurto Ovvero apribile solo dalla parte posteriore, quindi è uno zaino che ho deciso proprio per questo motivo Adesso però andiamo a vedere tutto quello che ho deciso di metterci all'interno e pian piano ce lo inseriremo Allora, eccoci qui con lo zaino, la prima cosa che vado a fare sicuramente è quella di andare ad aprire tutta la zip In modo tale da andare ad inserire tutto quello che mi interessa all'interno Allora, me lo appoggio qui, non ho spazio sul tavolo purtroppo, anzi facciamo così, facciamo un po' d'ordine in modo tale da poter appoggiare lo zaino qui sopra Allora ragazzi, eccoci qui con lo zaino bello aperto sopra il mio tavolo e andiamo subito ad inserire quello che è il primo prodottino Ovvero iPad mini che mi darà la possibilità di andare a guardare serie tv su Netflix, Apple TV e tante altre cose che magari posso fare in aereo durante le 9 ore di viaggio E beh ragazzi, questo lo vado ad inserire all'interno della taschina dedicata proprio all'iPad che questo zaino ne è fornito Veramente molto comoda perché inoltre abbiamo due comodi elastici per andarlo a fissare molto molto velocemente Allora, direi di andare ad inserire tutte quelle che sono le piccole cose che vanno all'interno di tutti i taschini che ha questo zaino Come potete ben vedere all'interno di questa clip Come potete vedere ha veramente tanti taschini e andiamoci ad inserire subito tutto all'interno E partiamo subito con quello che è il power bank Power bank di Xiaomi, 10.000 mAh, mi trovo veramente alla grande ragazzi Nonostante sia un po' più grande rispetto a quelli che sono i power bank di 10.000 mAh di oggi Ma con questo mi trovo veramente alla grande Questo lo vado ad inserire all'interno di uno di questi taschini che vi ho mostrato poco fa E inoltre vado a collegare anche il cavo USB Perché questo zaino è dotato di porta di ricarica esterna Che è proprio da questo lato come potete ben vedere In modo tale che io quando sono per strada aggancio il cavo e sono già in ricarica Allora, zaino power bank messo all'interno Andiamo ad inserire tutti quelli che sono i cavi di alimentazione Allora, come voi ben sapete avrete visto dal mio ultimo bag tech Ovvero dal zaino da fotografo che vi lascio il link qui in alto nelle schede Io come cavi utilizzo cavo Anker Powerline Plus per quanto riguarda il Lightning E ho questa pochette di Tucano con due cavi Uno USB-C, l'altro micro USB In modo tale da coprire tutti quelli che sono i cavi che mi servono lì a New York Per ricaricare tutti i miei dispositivi Questi li vado ad inserire sempre nella stessa taschina del power bank Dato che è molto larga per quanto riguarda gli elastici E ci stanno veramente alla grande all'interno Inoltre, come cavo, mi vorrei portare un cavo Lightning Da 1,80m, quello classico degli iPhone Io solitamente mi porto questo rosso in treccia Super resistente, veramente resistentissimo Sempre della casa Apple Ma semplicemente è stato rivestito con una treccia In modo tale da renderlo super resistente Beh, non vorrei portare questo perché vi faccio vedere la differenza dimensionale Dell'arrotolamento sia dell'uno che dell'altro Che è veramente paradossale Quindi assolutamente questo lo tengo magari per altri casi Dove posso portarmi uno zaino leggermente più grande Questo cavo qui lo vado a mettere insieme all'iPad Perché voglio avere la possibilità di prenderlo e reperirlo Nella maniera più rapida possibile Senza dover andare a scavare all'interno dello zaino Perché questo lo voglio utilizzare come cavo esterno Per andare a ricaricare il mio smartphone direttamente da quello che è lo zaino Detto questo, direi di andare avanti E andare avanti con quella che sarà la mia dotazione fotografica Tra virgolette Allora, io mi porterò il mio Joby Gorillapod Per fare un po' di vlog Per fare un po' di foto strane Appoggiarlo e ganciarlo da qualche parte Per poi fare foto Che è veramente molto comodo Super compatto E mi dà la possibilità di supportare Sia iPhone sia la mia camera E inoltre quello che abbiamo unboxato Qualche giorno fa qui sul canale Ovvero il Zhiyun Crane M2 Che se vi siete persi il video Ve lo lascio qui in alto nelle schede Uno stabilizzatore per smartphone GoPro e mirrorless molto compatte Che cosa veramente super super comoda Perché appunto mi dà la possibilità di stabilizzare Veramente tutti i dispositivi che mi porterò con me Allora, andando avanti Direi di andare ad inserire appunto questi dispositivi Questi qui Beh, il Joby Io lo appoggio semplicemente lungo il fondo dello zaino Che ci va tranquillamente E' super compatto E mi dà anche un po' di sostegno lungo la base Detto questo Direi di andare ad inserire quello che sarà L'alimentatore Le schede SD Vabbè, insomma un po' tutto Allora, mi porto questa pochetta di DJI Nella quale io tengo tutte le mie schedine SD Alcuni attrezzi per andare a collegare smartphone Con chiavette USB Hard disk Eccetera eccetera Me la porto sempre con me Perché appunto è super compatta Resistente E mi dà la possibilità di tenere tutto sotto controllo La vado a mettere all'interno di quest'altro taschino Che sta qui Nel frattempo stavo buttando a terra il tavolo Allora, l'ho messa all'interno di quest'altro taschino E ci va alla grande Allora, alimentatore Alimentatore Io porto questo di Spigen Con Quick Charge 3.0 Due porte a disposizione Veramente molto comode Lo vado a mettere insieme all'iPad Da questo lato Sempre con le molle che li tengono belli fermi Allora, vediamo cos'altro c'è Abbiamo questo Un po' tutto Ok Allora, questo qui Questo qui è il mio filtro ND variabile Che è della GOB Che mi dà la possibilità appunto Di andare a ridurre Quelli che sono gli ND Della mia camera Con l'ottica standard Quindi il 1650 Veramente molto comodo Che metto sempre all'interno di questa borsa Beh, dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Lo mettiamo Qui in quest'altra taschina Molto molto comoda Inoltre mi vorrei portare Questo speaker bluetooth Speaker bluetooth Molto piccolo Molto compatto Che avete visto in un ultimo In uno dei miei passati unboxing Vi lascio il video qui in alto nelle schede Veramente molto carino Molto compatto Lo mettiamo qui insieme all'ottica Mettiamo anche il GOB Che non avevo messo E direi adesso Di andarlo a chiudere In modo tale Da renderlo un attimino stabile E mostrarvi appunto Come è stabile questo zaino Allora Lo vado a chiudere velocemente Ecco qui Lo zaino è praticamente completo Veramente molto molto comodo Leggerino direi Dobbiamo inserire qualche altra cosina Veramente banale Allora Questa è la custodia del mio microfono Della Shure Che sto utilizzando in questo momento La vado a mettere all'interno Insieme a quello che era Il porta Schede SD Vado a mettere i miei occhiali Ocley M2 Frame Molto molto fighi Molto comodi E che mi riparano Da tutti quelli che sono i raggi solari Li vado a mettere all'interno Chiudo E li metto nei propri Porta occhiali Di cui è dotato Questo zaino Ok Abbiamo qui Airpods Tradizionali Le metto insieme all'iPad Tanto queste verranno Generalmente in tasca con me E infine Al centro Dato che vorrei portarlo Scusatemi ragazzi Non mi vedete Ho fatto un casino Dato che vorrei portarlo Con tutta la pochette Vado a mettere Questo Lo Zhiyun Crane M2 Vado a chiudere Le zip Ok Ragazzi Ci siamo Lo zaino È fatto Io lo indosso In modo tale Da farvi vedere Appunto Come è compatto Questo zaino Ah Super comodo Bello compatto Nessuno può rubarmi niente Ed è veramente Una figata pazzesca Detto questo Ragazzi Io sto partendo E quindi Non posso far altro Che salutarvi E dirvi che noi ci vediamo Prossimamente Sempre qui Sul mio canale YouDo